No, muro in te! Muro io! Tu già ti presa! Sì! Perché ti stai allenando così tanto al muro? Perché è privato! Balla! No! 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 Allora! Allora, effetto! Allora, effetto! Questa! Questa o sempre! No! Sempre! No! Dove? Palla! Porta! 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 Pala. 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 Pagliari. L'altra parte è trattenuta. Grazie. 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 No, 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 no. Perché? Ma io ho capito, ma tu non sei attaccare, non tu non scordare mai. Grazie. 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 Palla. Palla la battuta. Bala 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 si è morto due e mezzo prima piccino piccino da da quando devi dare un'altra se è migliorata sulle alzate eh? devi dare un'altra se è migliorata e ora manca ogni appoggio visto che ti danno palle facile e me li spaiare di te ora manca tutto il resto eh eh no, però così non è 06 io devo fare 6 metri io devo fare mezzo quando siamo? 07 06 06 06 quando siamo? 07 no, non devi tentare niente come prima, come prima palla linea dai linea dai 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 Grazie. 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 infine. Grazie. Grazie. Trazie a tutti. Mi最 zero. Sì, io devo andare molto. Due, tre. No, sono ragazzi che hai un sacco di voci. No, no, altro due. Bellissima! Sì. 5-2. Balla. Ah, non c'è. Sì, sei. Grazie. 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 10-3. Balla. Non l'ho detto io. 10-3. 10-3, vai. Balla. 12-3. Balla. 12-3. Balla. 4-12. Balla. 4-12. 4-12. Grazie. Grazie. 13-4 13-4 13-4 14-6 14-6 E tu Albi Balla 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 è che vai battutato se sbagliamo vieni a spingi, 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 bravissimo torna, vieni ma dai, che porco quanto si sta? 8-20 6-6 bravo non so se ho voglia di vincere vinciamo, vinciamo con un fatto palla palla dai 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 fuori è uno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.